www.vivitorino.net è un'innovativa proposta di informazione sulle attività del territorio rivolta soprattutto ai giovani e alle famiglie in Torino che, utilizzando tecniche multimediali dinamiche nuove, possono avere in modo immediato e sempre aggiornato informazioni su attività commerciali ed eventi. Canale multimediale di informazione per i giovani e le famiglie su Torino e Provincia, web e agilità www.vivitorino.net Informazione, appuntamenti ed eventi, spettacoli e cultura, promozione per attività commerciali, locali, shopping, benessere, turismo e sport. Canale multimediale di informazione per i giovani e le famiglie su Torino e Provincia presenta il nuovo prodotto territoriale, l'Agenda 2010. 5.000 distribuzione gratuita agli iscritti di www.vivitorino.net e agli operatori segnalati sul sito di informazione, informando appunto sui loro appuntamenti sullo sport, cali, shopping, turismo e benessere, il tutto a Torino e in Provincia.